Buon pomeriggio e buona settimana a voi, una settimana quella che si apre molto importante, che ci porterà sabato prossimo 16 luglio al convegno nazionale sulla mala giustizia, convegno che si terrà a Milano al palazzo Isimbardi in corso Monforte 35. Chi volesse eventualmente aderire trova tutte le informazioni sulle pagine Facebook di Francesco Carbone, tutti i riferimenti, affrettatevi perché ci sono posti contingentati, la sala contiene solamente 133 posti a sedere. Quindi davvero affrettatevi se volete partecipare a questo convegno nazionale. L'altra cosa che volevo dirvi, voi sapete che quando ci sono colleghi, se così li posso definire, youtuber che fanno un'informazione interessante e che sono persone soprattutto che hanno cose importanti da dire, io ve li segnalo, ho avuto modo di conoscere Giorgio Riccardini, un insegnante che svaria nella sua informazione su diversi campi, ci porta anche delle informazioni interessanti che arrivano dall'estero e io vi prego davvero di seguirlo. Tra l'altro è meritevole, non fosse altro per il fatto che ci ha rimesso di persona, è stato sospeso come insegnante perché non ha voluto sottoporsi a questo siero, si è opposto e quindi è stato sospeso. Ma ho avuto modo di seguire di recente dei suoi video che sono sicuramente interessanti e ovviamente il suo pensiero si avvicina molto al nostro. Quindi seguitelo, lo dovete seguire come Giorgio Riccardin, quindi con la N finale, lo trovate sia su YouTube ma anche sul canale Telegram Giorgio Riccardin. E veniamo al video di oggi. Ecco che è riniziata nelle varie televisioni nazionale la sfilza di virologi e epidemologi che arrivano in televisione. Stamattina ne ho presi addirittura due nella trasmissione sulla 7, Bassetti e Cartabellotta. Qualche giorno fa è stata la volta di Pregliasco, di Galli. Insomma, sono tornati in prima linea i virologi, gli epidemologi che ci parlano di quanto sia importante riprendere la vaccinazione. E io vi ho sottolineato quanto sia altrettanto importante invece disobbedire. Uno perché vi assicuro che in tante e nessun'altra parte del mondo questo è un tema, chissà perché è solo sempre un tema ed è politico, ovviamente nel nostro paese ed in particolare sulla spinta di Speranza, Ministro della Sanità, che sappiamo uomo di Draghi, uomo dei poteri, uomo del sistema, che ha solo un'idea politica e non c'è nulla di scientifico per quanto riguarda i vaccini, anche perché ormai lo sappiamo questi vaccini anche nella miglior ipotesi avessero dimostrato e non lo hanno, lo diciamo, che erano efficaci. Questi di sicuro non lo sono più in quanto studiati sul virus di Wuhan che ha avuto decine e decine di mutazioni. E malgrado questo Speranza continua ad insistere su questo tema. E' chiaro che probabilmente il Ministero della Sanità deve far fuori anche migliaia, se non milioni, di vaccini che sono rimasti nei depositi, perché l'altra cosa che non hanno più sottolineato da un certo punto in poi è che gli italiani, anche quelli che erano più rigidi, hanno capito e non hanno più fatto la quarta dose, molti non hanno più fatto la terza dose e quindi il tutto si è fermato. Il Ministero della Sanità però queste informazioni non ce le ha mai date, perché è evidente che da un punto di vista della propaganda questo metterebbe il Ministero un po' in imbarazzo. Ora, ieri vi ho chiaramente detto che noi dobbiamo insistere sul fatto della disobbedienza e ancora di più adesso che è decisa l'azione del Governo e sappiamo che sarà così a partire da settembre, noi dobbiamo farci trovare pronti a dire di no, ma dire di no anche su tutte le imposizioni che riguardano ad esempio l'obbligo in certe strutture, perché vedrete che tornerà delle mascherine, per non parlare poi della scuola. Dobbiamo essere agguerriti, dobbiamo essere uniti per fare sempre più barriera a questa nuova ondata che arriverà, che di colpo si è dimenticata pure della guerra. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.